Musica Ancora arrivi in campagna, smistamento a Salerno, cresce la preoccupazione per l'accoglienza dei migranti. Rapina in un ufficio postale del Salernitano sottratto a Pellezzano il denaro per appagare le pensioni ad agire due malviventi armati. Cento piante di marijuana scoperte nella Vellinese, alte fino a tre metri, erano nascoste da una fitta vegetazione. Il blitz a Teano, lo scorso 21 luglio le indagini sono continuate e oggi i carabinieri hanno sequestrato altri pezzi di storia. Festa dei 90 anni del Napoli Calcio e test con Nizza allo stadio si entra gratis a causa della prevendita fiacca. Siglato accordo a Benevento tra gli industriali e la società calcistica, un'intesa per la promozione del territorio. Nuova edizione del Media News, l'abbiamo appena sentito dalle nostre anticipazioni. Nuova ondata di migranti, circa 800 in Campania. È allarme per lo sbarco a Salerno e non solo. Il servizio. Il mondo è in guerra, il mondo deve reagire. Papa Francesco ha esortato a farlo con l'amore. Tanti pensano di loro che è meglio che fossero rimasti nella sua terra, ma lì soffrivano tanto. Sono i nostri rifugiati, ma tanti li considerano esclusi. Con il suo messaggio di misericordia, nelle ore di chiusura della giornata mondiale della gioventù di Cracovia. Eppure la paura si è insinuata tra le popolazioni che vedono attaccare quotidianamente la loro normalità, la loro quiete. Noi ne abbiamo parlato col vescovo di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, che si occupa da tempo dell'accoglienza dei migranti in Campania. Siamo in una guerra combattuta a pezzi e che questa guerra certamente non è una guerra di religione. Le ragioni di una conflittualità e di un sussulto che preoccupa il mondo intero vanno ricercate nei gravissimi squilibri che ancora feriscono l'umanità. La fame, la mancanza di istruzione, la povertà, la mancata proposta democratica in diverse parti del mondo oggi è diventata occasione di guerra e di conflittualità. È un interrogativo sul quale il mondo occidentale e le grandi democrazie devono riflettere. Per garantire una migliore accoglienza dei migranti e per cercare di alleviare i timori dei cittadini del posto serve innanzitutto il dialogo. Le difficoltà legate all'ospitalità dei migranti e alla loro integrazione restano uno dei cruciali nodi da affrontare e sbrogliare. Ad esempio nell'agro sono in arrivo 100 migranti che saranno dislocati in varie strutture grazie a un accordo di divisione secondo gli ambiti territoriali. Il Vescovo De Luca è convinto che si debba e si possa fare di più nonostante le paure e il disorientamento generale. Rapina in un ufficio postale del Salernitano sottratto a Pellezzano il denaro per pagare le pensioni ed agire due malviventi armati. Sentiamo i dettagli. Dovevano servire al pagamento delle pensioni 30.000 euro che erano stati appena depositati dal furgone portavalori nell'ufficio postale di Coperchia quando questa mattina una coppia di rapinatori ha fatto eruzione. Erano ben informati i malviventi sull'orario in cui mettere a segno per rendere proficuo al massimo il colpo nel piccolo ufficio di via Cacciatore nella frazione del comune di Pellezzano già in passato purtroppo preso di mira dai rapinatori. Erano in due e hanno raccontato dipendenti e due testimoni che si trovavano già presso lo sportello che aveva da poco aperto al pubblico. Poco prima delle nove la coppia attua il suo piano. Uno resta fuori, è armato e controlla che non ci siano arrivi di forze dell'ordine. L'altro entra nell'ufficio e ci mette poco a farsi consegnare sotto minaccia dai dipendenti i sacchi con i 30.000 euro appena depositati dal furgone portavalori. Poi la fuga in sella ad uno scooter nero come hanno avuto poi modo di verificare da un unico video registrato da una telecamera di sorveglianza i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi e le indagini per risalire agli autori del colpo. L'ufficio postale è poi rimasto chiuso. Una rapina da 200.000 euro è stata compiuta anche in un ufficio postale di via Brecce Sant'Erasmo di Napoli. I banditi, almeno due armati di pistola, sono entrati nell'ufficio poco dopo l'orario di apertura attraverso un foro praticato probabilmente nel corso della notte, nel pavimento dei locali dei servizi igienici. Dopo aver amminacciato con le armi il direttore e gli impiegati, i ladri si sono impadroniti del denaro disponibile, circa 200.000 euro, e sono poi fuggiti. Sul posto è intervenuta la polizia che indaga sulla rapina. Ancora coltelli, ancora minori protagonisti di giornate e notti di violenza. Altro sangue a Napoli, sei giovani feriti in meno di 24 ore. L'ultimo episodio risale alla notte tra sabato e domenica in zona ferrovia coltellato un 17enne, ma gli investigatori attenzionano in modo particolare una delle aggressioni precedenti a Forcella. Esattori dei clan, sempre più giovani, preso 18enne, affiliato al clan lorusso di Napoli. Il servizio. Esattori del clan, sempre più giovani e duri a Napoli. A 18 anni, l'ultimo arrestato del clan lorusso. Un ingaggio, quello tra giovanissimi, che secondo i carabinieri potrebbe essere dettato dalle inchieste giudiziarie, che hanno portato in carcere diversi esponenti di spicco del gruppo, come dalle difficoltà economiche dovute alla diminuzione degli introiti per la pesante perdita di affiliati. Il neo 18enne compiuti tre mesi fa, esattore Alessandro Festa, aveva preso di mira in particolar modo i titolari di strutture ricettive dell'area di Marianella. Modi eclatanti, quelli messi in atto per far capire a tutti che il clan era ancora più forte. I soldi erano stati chiesti all'imprenditore per i carcerati di Miano. Qualche ora dopo, però, ha trovato ad attenderlo i carabinieri di Marianella e del nucleo operativo della compagnia Vomero, che l'hanno arrestato per istorsione aggravata dal metodo mafioso. Il 18enne, ritenuto vicino al clan camorristico lorusso, è stato fermato subito dopo aver stretto nelle mani la somma di denaro. Rissa sul lungomare per apprezzamenti ad alcune ragazze, tre giovani arrestati, è accaduto domenica sera a Torre Annunziata. I carabinieri sono intervenuti nei pressi di Ulido di via Marconi, dove c'erano alcuni giovani che si colpivano a pugni e schiaffi. Dopo aver riportato la calma, i militari dell'arma hanno arrestato per rissa e lesioni Pietro Liguori, 25 anni, di tre case, già noto alle forze dell'ordine, Giuseppe Gessosi, 20 anni, di Torre Annunziata, e Pasquale Annunziata, 22 anni, di Ottaviano. Un'operazione di controllo sulle imbarcazioni di porto ormeggiate a Capri è stata compiuta dai carabinieri. L'intervento è scattato alle 9 e si è concluso poco dopo le 12, con la verifica di una settantina di imbarcazioni di lunghezza superiore ai 20 metri e sino a circa 60 metri ormeggiate alle banchine del porto turistico di Marina Grande. I carabinieri hanno verificato la documentazione delle imbarcazioni, i documenti personali dell'equipaggio e degli occupanti, dei proprietari e delle persone che avevano noleggiato un charter lo yacht. I controlli sono stati eseguiti anche sui proprietari dei motoscafi di lunghezza di una ventina di metri in gran parte di proprietà di italiani. Siamo ora in provincia di Avellino, due vaste piantagioni di marijuana sono state scoperte e smantellate dai carabinieri ad Altavilla sradicate oltre 100 piante alte fino a 3 metri. Sentiamo. Ad Altavilla Erpina, su iniziativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Mirabella e Clano, con l'ausilio del personale della locale stazione carabinieri e risolutivo intervento del velivolo del settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, è scattata una mirata operazione antidroga finalizzata a contrastare l'ormai dilagante fenomeno di coltivazione di marijuana in terra irpina. Nel corso delle operazioni, durate dalle prime ore dell'alba fino a tarda serata, i militari hanno individuato due vaste piantagioni di marijuana in agro limitrofo al centro abitato, ubicate in terreni incolti e ben mimetizzate da folta vegetazione che ne impediva un facile accesso, rendendo quindi l'operazione alquanto difficoltosa. Il tutto monitorato dall'alto grazie alla presenza dell'unità aerea dell'arma che ha permesso di operare in un'adeguata cornice di sicurezza e precisa localizzazione dell'aria. Centinaia di piante dell'altezza da 1 a 3 metri circa che i carabinieri hanno sradicato, tagliato e posto sotto sequestro unitamente a vari utensili agricoli e contenitori utilizzati per la coltivazione e la raccolta, rinvenuti nelle immediate vicinanze. Dell'attività svolta ne è stata data comunicazione alla procura della Repubblica di Avellino, sono in corso indagini volte all'individuazione dei responsabili dell'illecita coltivazione non si escludono ulteriori sviluppi. Nascondeva droga negli slip e i soldi in una bambola. Così è stato arrestato Alfredo Zaccaria, 61 anni di Pannarano, già noto alle forze dell'ordine. Da tempo l'uomo era sorvegliato dai carabinieri ma non erano mai riusciti a sorprenderlo ed incastrarlo in fragranza con dosi di droga pronte per lo spaccio. Questa volta è stato trovato in possesso di 18 grammi di hashish suddivisi in sei pezzi, 8 grammi di marijuana e 230 euro in banconote da tagli da 20 e 10 euro. Tutto come scoperto dai carabinieri in una busta di plastica trasparente nascosta negli indumenti intimi. I carabinieri questa volta della compagnia di Baiano a termine di un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino hanno arrestato a Vinci, provincia di Firenze, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere un pregiudicato di 45 anni proveniente dall'Interland napoletano resosi responsabile di concorso in rapina e lesioni aggravate. I fatti risalgono allo scorso 14 aprile. Non pagano il biglietto e picchiano l'autista della MTS. Il grave fatto è accaduto al termine del turno di servizio del dipendente dell'azienda Trasporti Cittadina. L'uomo stava riportando il mezzo al deposito di via Santa Colomba di Benevento quando è stato aggredito da due giovani. L'autista ha dovuto far ricorso alle cure dei medici dell'ospedale Rummo dove è stato trasportato in ambulanza. I carabinieri di Teano hanno scoperto a casa di un uomo di 79 anni numerosi reperti secondo la Procura della Repubblica di Santa Maria Capovetere sarebbero stati rubati nel museo archeologico di Teano. Rubavano e vendevano reperti archeologici ancora un blitz dei carabinieri militari di Teano che su delega della Procura di Santa Maria Capovetere stanno profiguamente proseguendo lungo il solco investigativo che lo scorso 21 luglio aveva consentito l'emissione e conseguente esecuzione della misura cautelare nei confronti di quattro soggetti fortemente indiziati tra l'altro della commissione di una serie di furti di beni di interesse storico archeologico. Infatti le successive collegate queste investigazioni hanno consentito in questi giorni di effettuare ulteriori perquisizioni all'esito delle quali sono stati rinvenuti ulteriori beni di interesse storico artistico ed archeologico trafugati dal museo di Teano. Si tratta in particolare della perquisizione effettuata presso il domicilio di Armando Are a 37 anni all'esito della quale è stata rinvenuta una lucerna in terra cotta risultata oggetto di furto il 14 gennaio 2016 nonché 24 elementi di interesse di beni culturali tra cui anforette in terra cotta con decorazioni lucernex, voto, piccoli vasetti da alcune testine in terra cotta tutti risalenti a varie epoche storiche che vanno dal IX secolo a.C. al I e II secolo d.C. Gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro in attesa di essere affidati alla soprintendenza ai beni culturali per i successivi accertamenti. Le investigazioni hanno consentito ad oggi di procedere al recupero di oltre 170 oggetti di notevole interesse storico per valore di circa 500 mila euro. I carabinieri della compagnia di Marcianise presso la casa circondariale di Santa Maria Capoavetere hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola provincia di Cosenza nei confronti dei pregiudicati albanesi tutti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e ricettazione commessi in Calabria durante lo scorso mese di giugno. L'autorità giudiziaria ha concordato con le risultanze investigative che il 13 luglio scorso portarono all'esecuzione da parte degli stessi carabinieri della compagnia di Marcianise di un decreto di fermo del PM della Procura Samaritana. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per uno speleologo di Salerno domenica durante l'esplorazione insieme ad altri compagni di una grotta a Campochiaro provincia di Campobasso nel Matese nord orientale forse a causa del cedimento di una fune è caduto rimanendo bloccato ad una profondità di 175 metri. Immediato l'allarme è l'intervento di una scuola del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che dopo averlo soccorso lo ha riportato in superficie e affidato alle cure dei medici e le sue condizioni non sono preoccupanti. Gioia nella comunità salernitana di Pagani Alfonso Maria De Liguori interprete della misericordia e patrono dei confessori queste le due caratteristiche del Santo Patrono Paganese tracciate nel corso dell'Omelia dal Vescovo Monsignor Giuseppe Giudice. Sentiamo. Un momento solenne vissuto stamane nella Basilica di Santo Alfonso per ricordare il bicentenario della beatificazione di Santo Alfonso ma per ricordare il Santo in tutta la sua intierezza. Presente il Vescovo della Diocesi Monsignor Giuseppe Giudice accompagnato dai sacerdoti di tutta la Diocesi o almeno quasi tutti. Un momento solenne vissuto dai cittadini da Pagani il messaggio ai fratelli musulmani ai fratelli di tutta la religione da parte di tutta la Diocesi di tutti i sacerdoti affinché si ponga fine alla guerra si ponga fine al male e al dolore. Questo è un momento diocesano dall'inizio da quando sono venuto ho cercato sempre di valorizzare che era già fatto sicuramente ma di essere molto attenti a questa realtà noi abbiamo qui il corpo di Sant'Alfonso Maria dei Liguori un grande santo dottore della Chiesa un confessore moralista autore di tante canzoni spirituali di tanti testi ma penso che in quest'anno della misericordia forse è bene evidenziare questa figura questa santità perché ognuno di noi possa non solo parlare di misericordia ma accogliere la misericordia del Signore e porre dei gesti di misericordia Santo Padre lo ha detto con molta chiarezza ma l'abbiamo ripetuto sempre non è una guerra di religione è una guerra di interesse è una guerra diciamo politica è una guerra economica dobbiamo recuperare la fraternità estate 2016 secondo uno studio sono 6,5 milioni le presenze negli agriturismi più 8% sul 2015 grande crescita nel mezzogiorno Puglia in testa sentiamo oltre 6,5 milioni di presenze previste negli agriturismi italiani questa estate con un aumento stimato dell'8% rispetto allo scorso anno per effetto soprattutto degli stranieri tedeschi francesi e del nord Europa e quanto emerge da una stima di col diretti Terra Nostra la maggiore concentrazione delle presenze spiegano si registra in agosto con le mete più gettonate in agriturismo vicino a mare e montagna o in prossimità delle città d'arte dal punto di vista geografico in grande crescita le presenze del mezzogiorno con la Puglia in testa bene anche le strutture lungo la costa in Sicilia Calabria e Campania e nelle aree archeologiche la capacità di mantenere inalterate nel tempo le tradizioni enogastronomiche è continua col diretti la qualità più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi italiani che hanno qualificato la propria tradizionale offerta di alloggio e ristorazione con servizi innovativi corsi sportivi e di cucina visite culturali e naturalistiche attività di wellness in molti casi la vendita di prodotti locali precisa la col diretti è accompagnata anche dalla possibilità di assaggi e degustazioni guidate di fronte ad un'offerta così variegata innata l'app col diretti farmers for you per mettere in connessione gli imprenditori agricoli italiani con i turisti italiani e stranieri che vengono in Italia ed intendono acquistare prodotti o dormire nelle aziende agricole e siamo alla pagina sportiva serie A le stelle del San Paolo illuminano la storia azzurra il Napoli festeggia nel suo stadio 90 anni vediamo una festa dopo un'estate difficile di cui ancora non si vede una fine il Napoli celebra l'esordio al San Paolo nell'amichevole contro il Nizza una serata per festeggiare anche i 90 anni del club nato nell'agosto del 1926 ma su cui alleggia inevitabilmente lo spettro di Guain e la grande onta collettiva del suo passaggio alla Juventus troppo poco l'ingaggio di Milic per far dimenticare ai fan azzurri l'addio del bomber dei record e questo Aurelio De Laurenti lo sa bene per questo continuano nella sua rincorsa a suon di milioni a Mauro Icardi il bomber nero-azzurro che farebbe ripartire l'entusiasmo la freddezza è indicata anche dalla prevendita molto fiacca nonostante i minorenni entrino gratis e gli ingressi omaggio nelle ultime ore l'attenzione sarà sulle curve sulla loro reazione all'addio di Guain alle 20.15 comunque la festa per i 90 anni con un doppio spettacolo al San Paolo l'orchestra il coro del Teatro San Carlo in un repertorio classico e l'esibizione del trio dei tenori Il Volo in un repertorio napoletano poi la presentazione della squadra saltata a dimaro nei giorni dell'attenzione massima per il caso Iguain i fuochi pirotecnici e quattro maxi schermi con le immagini di 90 anni di passione non c'è Maradona che ha mandato un messaggio audio mentre il club ha invitato alcune vecchie glorie tra cui Beppe Bruscolotti il capitano degli anni d'oro che poi lasciò la fascia a Dieghito applausi per Mare Kamsik il capitano ormai bandiera azzurra nonostante l'origine slovacca il centrocampista ha rinnovato il suo contratto fino al 2020 legandosi in pratica a vita e colori azzurri una scelta che colpisce particolarmente la fantasia dei tifosi nei giorni dell'addio del Pipita accanto ad Amsik sono passate tutte le stelle che in questi anni hanno esaltato e poi lasciato fuori grotta dalla Vezia a Cavani fino a Iguain e questo lo ha trasformato in una bandiera vecchio stile del Napoli dopo il test con il Nizza il Napoli è atteso il 7 agosto nell'amichevole con il Monaco mentre il 13 agosto volerà a Berlino per un test contro l'ERTA prima dell'esordio in campionato a Pescara Ed ora siamo alla Serie B Avellino il giorno dell'addio di Ciccio Tavano l'attaccante firma un biennale con il Padova un'avventura in Irpini a quella della punta tutt'altro che positiva solamente tre gol all'attivo per l'ex calciatore di Empoli e Livorno siglato l'accordo tra Confindustria e Benevento Calcio l'intesa consente di creare un'importante sinergia che mette a sistema la capacità attrattiva della società calcistica e l'effetto amplificatore del sistema industriale vediamo la Serie B è un'occasione una vetrina per promuovere il zannio le bellezze e le eccellenze enogastronomiche ecco perché Confindustria e il Benevento Calcio hanno siglato un accordo un patto per consentire agevolazioni per le aziende iscritte all'unione degli industriali che vorranno iniziare dei rapporti commerciali con la società calcistica inoltre i dipendenti delle imprese potranno sottoscrivere degli abbonamenti per il campionato con un piano di rateizzazione dedicato io l'ho definita la freccia rossa per il territorio noi andremo in televisione andremo sui canali nazionali andremo sulla stampa nazionale tutti quelli che vorranno salire su questo treno per mostrarsi di più sono accolti io vorrei che non fosse soltanto un fatto commerciale un fatto visibilità ma mi rifarei a quei valori che ho detto prima all'umanità all'essere capaci di capire che non si deve fare sempre tutto per avere un ritorno in termini di vantaggi economici ma stando attento ai budget di ogni azienda l'azienda può spendere qualcosa anche per promuovere una forma sociale Benevento è il mezzo attraverso il quale spendendo una piccola risorsa si può far sorridere e alleviare tante persone che invece non hanno questa possibilità in arrivo anche pacchetti turistici legati alle partite in casa e in trasferta dei giallorossi Abbiamo avuto con l'occasione con la grande occasione che ci ha dato il gruppo Vigorito l'avvocato il presidente ci ha messo nella condizione di attivare un volano che attraverso questa opportunità può dare dei benefici concreti alle imprese soprattutto approfittando della attrattività che avrà il nostro territorio e che quindi potrà sviluppare soprattutto nel settore turistico tutto quanto c'è dietro quindi stiamo già all'opera per organizzare dei pacchetti e delle opportunità che saranno appunto il beneficio del sistema delle imprese e chiudiamo con una notizia di basket se ne ha nulla da fare per Dominic Johnson in bianco verde la guardia proderà in Germania a darne notizia a un portale che parla di un accordo raggiunto con la conferma accordo sfumato dunque con la scandone ed era questa l'ultima notizia vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo arrivederci grazie a tutti Previsioni per martedì 2 agosto Ancora qualche temporale sparso sui rilievi principali, altrove il sole tornerà ad essere prevalente Ecco il dettaglio preparato come sempre da ilmeteo.it Al nord avremo bel tempo in pianura padana ma temporali si svilupperanno sull'arco alpino e sull'appennino settentrionale Spostiamoci al centro, temporali sulla Toscana centro settentrionale, sulle Marche e sull'Umbria settentrionale Sarà invece poco nuvoloso sul resto delle regioni Al sud qualche temporale, sul Gargano altrove il bel tempo e l'ampio soleggiamento saranno di casa Come saranno invece i venti? Saranno deboli su tutti i vaccini e a regime di brezza lungo le coste Temperature previste Minime che risultano essere pressoché stazionarie su tutte le regioni con valori compresi tra 17 e 24 gradi Durante il giorno invece prevediamo 22-30 gradi al nord, tra 28 e 33 gradi al centro e fino a 34 gradi al sud Da segnalare però ancora caldo a Cagliari con 36 gradi previsti Grazie Grazie